Musica Ancora un incidente al Moregallo, vent'anni si è tuffato dalla galleria ed ora è ricoverato, non bastano barriere e ordinanza a fermare i giovani, ogni giorno c'è chi rischia buttandosi anche da 25 metri. Vaccini senza prenotazione per tutte le età, la Sagra delle Sagre di Barzio, sabato dalle 9 alle 15, accesso libero per l'iniezione nel camper messo a disposizione da Reu. C'è anche un lecchese dietro allo straordinario successo azzurro nella marcia alle Olimpiadi e il medico della Nazionale Stefano Righetti, abbiamo studiato per due anni il clima di Tokyo, spiega. Buonasera, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca, non bastano cancelli, barriere, ordinanze di chiusura, avvisi di pericolo, ancora un incidente nella zona del Moregallo, un ventenne di seregno si è tuffato dalla galleria, ora è ricoverato in ospedale a Lecco. È successo ancora, copione simile a quanto ormai accade tutte le stati, solo che questa volta il tuffo proibito non è stato dalla galleria del Moregallo, il comune è quello di Mandello dell'Ario, ma subito dopo l'uscita dal primo tunnel che porta alla località. Poco cambia, stesso divieto, stessi pericoli. Ha rischiato di pagare a caro prezzo il tuffo proibito, un giovane di vent'anni di seregno è ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Lecco, traumi agli arti, fortunatamente non è in pericolo di vita. L'incidente è nel pomeriggio di lunedì, il ragazzo era insieme ad alcuni amici, si è gettato, atterrando malamente in acqua. È riuscito a raggiungere da solo la riva, trascinandosi sulla spiaggia, da dove i compagni hanno chiesto aiuto ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco specializzati nel soccorso spello alpino fluviale che lo hanno recuperato e affidato poi alle cure dei sanitari del 118. Come detto, un copione già scritto, dal punto dove si è lanciato non ci si potrebbe tuffare, eppure, nonostante i segnali di rivieto e di pericolo, molti ragazzi continuano a sfidare la sorte e a buttarsi in acqua dai finestroni della vecchia galleria dismessa della provincia aralariana. La stessa che il sindaco di Mandela dell'Ario, Riccardo Fasoli, vorrebbe vendere il prezzo di 350.000 euro, ma anche l'ultima asta è andata deserta. Anche se proprio in questi giorni abbiamo avuto l'interessamento da parte di un privato, del resto servirebbe un presidio fisso che noi, come amministrazione, non siamo in grado di garantire, spiega Fasoli. Intanto però i tuffi continuano e le imprese spesso vengono postate in rete. Non bastano cancellate, barriere, ordinanze di chiusura, avvisi di pericolo e nemmeno gli incidenti mortali. L'ultima croce a fine luglio dello scorso anno, a perdere la vita un 26enne equadoregno residente a Milano. E noi questa mattina siamo andati al Moregallo e abbiamo ascoltato l'appello di un esercente della zona. Vediamo com'è andata. Dai tuffi olimpionici di Tokyo a quelli amatoriali del Moregallo, quelli senza podine e medaglie. Al massimo si vince una manciata di like sui social postando il video dell'impresa, ma più che altro si perde anche la vita. Non sono stati sufficienti i tentativi di sbarrare l'ingresso. Siamo all'ingresso della galleria del Moregallo. Come vedete c'è un cancello che però è stato divelto qua alle mie spalle. Vedete che è stata spostata l'asta e i ragazzi entrano proprio da qui. Proseguono poi all'interno dell'ex galleria carrabile per tuffarsi dalle finestre. Questo martedì dopo l'incidente di ieri il luogo è deserto, ma disseminato di indizi del passaggio degli atleti improvvisati. La maggior parte sceglie il trampolino più basso, 10 metri. Pochi per fortuna tentano di buttarsi da 24 metri. Ad attenderli non gli applausi, ma le rocce sporgenti lungo il salto. Inutili anche gli appelli al buon senso. Io li vedo passare specialmente in motorino, sono un po', diciamo che vanno dai 15, 17, 20 anni, ma c'è anche gente molto più adulta che si lancia. E lei ha provato a dissuaderli? Ma io tante volte sì, ho detto ai ragazzi anche perché magari vengono poi a prendere da bere, a prendere gelato e dico ma cosa ci provate? A buttarvi, rischiate la vita dopo tanti incidenti che sono successi, che loro mi rispondono che si divertono così, che sono giovani e fanno quello che vogliono e così è. Avete sentito l'appello dunque pericoloso, l'ennesimo incidente di ieri lo dimostra. Ora cambiamo argomento, accesso senza prenotazione, vaccini liberi alla Sagra delle Sagre di Barzio. L'appuntamento è per questo sabato, vigilia di ferragosto. I visitatori potranno godere non solo di prodotti tipici locali, musica e spettacoli, ma anche della possibilità di aderire alla Profilassi. Grazie alla collaborazione tra TS, Brianza, Reu, il personale militare dell'Aeronautica Militare e la comunità montana Valsassina, Valvarrone, Valdesino e Riviera, sabato 14 agosto dalle 9 alle 15 i cittadini dai 12 anni in su potranno vaccinarsi nel camper messo a disposizione dall'azienda regionale di emergenza e urgenza. L'accesso è senza prenotazione e qualora fosse necessaria la seconda dose e verrà direttamente programmata nei centri vaccinali del territorio. C'è anche un lecchese dietro allo straordinario successo azzurro nella marcia alle Olimpiadi di Tokyo. Stefano Righetti, medico della Nazionale di Atletica, ha seguito da vicino Antonella Palmisano e Massimo Stano nel loro percorso verso loro. Il segreto? Ave studiato l'asfissiante clima della capitale giapponese. Spiega, sentiamo. Stefano Righetti, cardiologo e medico della Nazionale di Atletica, che ha seguito in particolare la marcia alle Olimpiadi. Grandissima gioia e soddisfazione per questi due ori. Qual è stato il segreto della marcia italiana alle Olimpiadi di Tokyo? Il segreto è stato che questi ragazzi hanno fatto in questi anni veramente un grandissimo lavoro. Uno dei segreti è stato che per esempio nel 2019 erano già andati a vedere come erano le condizioni a Tokyo, erano stati due settimane, gli fa un caldo umido molto 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 importante e loro già sapevano che cosa andavano incontro. Tutti gli altri atleti sono arrivati che si sono trovati in delle condizioni estreme, che non conoscevano, che non avevano mai provato. Loro già sapevano cosa andavano incontro, in questi due anni hanno lavorato con quest'idea, cioè allenarsi al caldo, allenarsi in condizioni umide e questo ha fatto veramente la differenza. E poi un tecnico che li allena, che tra l'altro è lo stesso per entrambi, sia per il parmissano che per Stano, che è un uomo che studia, che ricerca, che cerca sempre qualcosa di più, di nuovo, quindi questo penso abbia fatto la differenza. Da punto di vista medico, quali sono stati i punti su cui ha prestato particolare attenzione in queste condizioni? Ma abbiamo fatto un lavoro anche qui, che è durato circa un anno e mezzo, su insegnarli a tollerare per esempio un'integrazione corretta con i sali minerali e i carboidrati durante la gara, perché bisogna idratarsi bene in condizioni del genere, però non è facile allenare l'intestino, per esempio tollerare sali e carboidrati e liquidi in grandi quantità, bisogna proprio imparare a riuscire a farlo, perché magari se no uno potrebbe avere problemi allo stomaco, all'intestino, eccetera. E quindi ci abbiamo messo circa un anno e mezzo per arrivare alle concentrazioni che volevamo arrivare di sali, di carboidrati e di liquidi e questo è stato forse un altro punto interessante che abbiamo seguito. Lei ha avuto anche la possibilità di vivere l'esperienza di Tokyo, delle Olimpiadi, l'esperienza bella, ma anche non facile. È stato qualcosa di impressionante vedere l'atletica che vince cinque medaglie. Certo, questa volta c'era la complicazione del Covid e abbiamo vissuto all'interno di questa bolla, noi facevamo un tampone tutti i giorni, giusto per dirvi quanto erano severe le restrizioni, però lo 0,02% di chi era a Villaggio Olimpico ha avuto il Covid, quindi insomma sicuramente restrizioni severe ma utili. Partirà dal difficile campo di Vercelli, la stagione 2021-2022 della Calcio Lecco. La Lega Pro ha reso nota la composizione dei tre gironi di Serie C e pubblicato il calendario dei campionati al Via a fine mese. Si parte come detto da Pro Vercelli Lecco il 29 agosto, la prima riga Monticeppi che vedrà finalmente il ritorno allo stadio dei tifosi per una partita ufficiale dopo quasi due anni, sarà la settimana successiva. Lecco Legnago Salus, domenica 5 settembre. Il girone d'andata terminerà il 19 dicembre con Lecco Prosesto, tre giorni dopo in programma la prima di ritorno, poi il campionato riprenderà il 9 gennaio. La conclusione della regular season con Prosesto Lecco è fissata per il 24 aprile. La trasferta più vicina sarà a Seregno, la più lontana, a Trieste. Ed è tutto pronto per la doppia sfida amichevole fra le nazionali di calcio Under 17, Italia e Svizzera. La prima di queste è in programma domani, mercoledì 11 agosto alle 17 si giocherà allo stadio Rigamonticeppi di Lecco. Per la città, spiega l'assessore allo sport Emanuele Torri, è un grande piacere ospitare la nostra Under 17. È stata un'estate piena di soddisfazioni dal punto di vista sportivo, ricorda Torri. Ci auguriamo che nella nazionale della classe 2005 ci possa essere qualche campione del domani. La seconda amichevole fra Italia e Svizzera Under 17 si disputerà venerdì 13 agosto all'Osone nel canton Ticino. E ora ci spostiamo sul lago, una nuova attrazione sta animando l'estate a Dervio. Comune e autorità di Bacino hanno realizzato sulle rive del lago un acquapark gonfiabile che ha subito riscosso grande successo. Vediamo. Una divertente e fresca novità per il turismo del nostro territorio. Quest'estate è stato inaugurato a Dervio il primo acquapark del lago di Como. Un vero e proprio centro di divertimento sull'acqua con un'area di circa 500 metri quadrati su cui sono stati installati una serie di gonfiabili. Ci sono sei diversi moduli che hanno scivoli, hanno due trampolini per il salto, poi c'è un percorso ad ostacoli che bisogna intraprendere e logicamente la fase del divertimento è muoversi rapidamente. E se è una superficie scivolosa, è un po' come il calcio schiuma, si scivola, si cade in acqua, quindi i pericoli non ce ne sono. È molto divertente, è adatto a tutte le età, hanno già fatto diversi oratori ma anche una compagnia di donne per l'addio al nubilato, per cui si adatta un po' a tutte le esigenze di divertimento. È una cosa fresca, è molto estiva e la risposta della popolazione è molto buona. L'attrattiva è stata resa possibile grazie al comune di Dervio e all'autorità di Baccino. È l'unico esempio di acqua park sul lago di Como, è implementabile per cui in futuro volendo possiamo anche renderlo più grande. L'idea è nata dalla volontà di migliorare l'offerta turistica, offrire qualcosa di più perché per decenni ho sentito dire non c'è niente di nuovo da fare, non c'è niente per i giovani e allora mutuandolo da posti come Rimini, l'Idroscalo e Antigua abbiamo deciso di fare qualcosa che desse spunto di divertimento sia per i ragazzi del posto sia per i turisti. Quest'anno la gestione è stata affidata a una società esterna. L'anno prossimo faremo una gara d'appalto probabilmente pluriennale perché l'idea è di fare comunque strutturare un chiosco e una gestione dell'acqua park. Quest'anno era una cosa talmente sperimentale, talmente innovativa che bisognava capire il feedback. Il feedback è stato molto positivo perché nelle giornate di bel tempo gli incassi vanno oltre i 1000 euro, quindi è molto positivo. L'acqua park di Dervio rimarrà aperta fino al 30 di settembre con orari nei weekend dalle 11 alle 19.30 e nei giorni feriali dalle 13 alle 19.30. Ed era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Potete seguirci, ve lo ricordo sempre, anche sui social, su Facebook, su Twitter, su Youtube, su Instagram e sul nostro sito www.teleunica.com. Grazie per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.